prepariamo dei gamberi marinati sotto della salicordia salicordia non è altro che vengono chiamati anche asparagi di mare sono delle aghe che crescono fino al mare la salicordia viene semplicemente riempita in acqua senza sale perché è molto salata e dopo viene raffreddata in acqua per mantenere il suo colore bello verde i gamberi vengono usciati e devenati dopo vengono spianchiti per alcuni secondi in acqua non salata e dopo vengono marinati con del succo di limone zeste di limone agliate piccole e aromiche a piacimento mettiamo peperosa della menta del basilico e del prezzetto il piatto è molto semplice è composto da sotto la base e la salicordia e sopra vengono attraggiati semplicemente questi gamberi l'importante è cuocerli pochissimo perché più cuociono diventano di gomma dopo il piatto viene finito con una citrone al limone e quindi bene e sc